Buongiorno, allora video importantissimo per tutti i genitori, mamma e papà, che hanno dei bambini obesi, sovrappeso obesi, o dei teenagers in sovrappeso obesi. Questo è uno studio che sto appena pubblicato il 29 luglio di quest'anno, del 2021, su il New England Journal of Medicine, che è la rivista medica più importante al mondo. È uno studio di follow up su 500 ragazzi, giovani adulti, che avevano diabete tipo secondo, che avevano sviluppato diabete tipo secondo. Vedete che sono 500 partecipanti, l'età media all'inizio dello studio era di 26,4 anni e sono stati seguiti per 13,3 anni. Quindi avevano all'incirca 39 anni in media, quando poi sono andati a valutare i rischi, le complicanze del diabete giovanile. Questo è uno studio, è un follow up di uno studio randomizzato. I dati sono veramente terribili perché ci dicono che in persone che in media hanno 26 anni, quindi sono giovani, che hanno diabete tipo secondo, che è il tipico diabete dell'obesità, dell'obesità addominale, nella stragrande maggioranza dei diabete tipo secondo, la causa è un accumulo di grasso addominale che inizia ben prima dei 26,4 anni. Tipicamente inizia, diciamo, i fattori che poi portano al diabete, all'iperglicemia, iniziano 10-15 anni prima. Quindi questo viaggio terribile inizia all'incirca intorno ai 15, 10-15 anni. Quindi ricordiamoci di questo libro perché poi faremo delle riflessioni. Il tutto inizia perché i bambini intorno ai 10 anni mangiano male, fanno attività fisica, stanno tante ore di ponte alla televisione, alla Playstation, mangiano un sacco di merendine, dolci, salate, bevande zuccherate, un sacco di cibi raffinati e processati, un sacco di prodotti di origine animale, ricchi in aminoacidi ramificati e metionina, che sappiamo soprattutto con gli ramificati, aumentare il rischio di obesità e diabete, e poi sviluppano il diabete giovanile, e altri lo sviluppano più avanti, ma questo è lo studio. Allora, cosa succede in questi ragazzi che a 26 anni avevano il diabete? Succede che quando dopo 13 anni, appunto intorno ai 40 anni, sono andati a vedere la percentuale di malattie che avevano sviluppate, i dati sono terrificanti, il 67% aveva l'ipertensione, il 51,6% avevano la dislipidemia, cioè alti trigliceridi e basso HDL. Voi sapete che iperglicemia, ipertensione e dislipidemia sono tre dei fattori più importanti per il rischio di sviluppare infarto del miocardio, ictus e scompenso cardiaco. Non solo, a livello microvascolare, il 54,8%, quindi il 55% di questi giovani adulti che avevano il diabete a 26 anni, avevano sviluppato nefropatia diabetica. Voi non sapete cosa è una patologia terribile, è un danno renale causato dall'iperglicemia e da tutti gli altri fattori ormonali che poi porta la dialisi al trapianto renale. E il 32,4% aveva neuropatia diabetica, cioè una malattia dei nervi causata dal diabete, altra complicanza terribile. E addirittura il 13,7% aveva sviluppato retinopatia diabetica nel primo periodo e poi nel follow-up ulteriore il 51%, la metà, aveva segni di retinopatia diabetica, cioè una malattia della retina che degenera e che poi porta alla cecità. Sono dei dati terribili, cioè dovete rendervi conto che questi qua sono dei dati estremamente allarmanti e che richiedono una forte riflessione della classe medica e della classe politica, perché capite che se prendiamo delle persone che hanno 26 anni e dopo 13 anni abbiamo questo livello di complicanze, il sistema sanitario nazionale è assolutamente insostenibile. questi dati ci dicono che il 60% di questi quarantenni che per 13 anni avevano avuto il diabete in media avevano almeno una di queste complicanze, il 28% avevano due o più complicanze. Il quadro è assolutamente, come ho sempre denunciato, insostenibile. Fatemi spiegare perché è insostenibile. Guardiamo i dati di Occhio alla Salute nel 2020. Ci dicono che il 20% dei bambini italiani è in sovrappeso, il 9,4% è obeso e il 2,4% è gravemente obeso. Ma poi se guardiamo in regioni come la Campania, la Calabria, la Puglia, la Sicilia, qui parliamo di numeri addirittura in cui arriviamo all'incirca al 50% di bambini in sovrappeso o obesi e chiaramente questi bambini sono ad altissimo rischio di sviluppare diabete tipo seconda al di là di tante altre malattie legate all'obesità e al diabete e quindi capite che se questi bambini a 8-9 anni sono già obesi o sovrappeso il loro rischio poi a 26 anni come in questo studio di avere il diabete tipo seconda è molto molto alto e ha delle ripercussioni sociali incredibili e ho già spiegato nel mio video e in questo lavoro scientifico che ho pubblicato qualche giorno fa su Plus Medicine che questa idea di aspettare che milioni di persone si rivolgano al medico a 40-50 anni con dei sintomi di malattia con il rene che non funziona con la retina degenerata per cui iniziano a vedere bene o con sintomi neuropatici o con patologie cardiache è insostenibile sia dal punto di vista finanziario che etico, che sociale, che ambientale questo modello che viene chiamato sick care aspettare che le persone si ammalino prima di prescrivere dei farmaci che naturalmente non curano la malattia quello che facciamo con i farmaci antidiabetici è soltanto quello di mantenere più bassi i livelli di glicemia e rallentare la progressione di queste malattie renali, retiniche, cardiache non è che li curiamo queste persone in realtà gli stili di vita hanno un potentissimo effetto curativo noi sappiamo che anche in pazienti diabetici coloro che perdono il 15% del peso corporeo il 70% di queste persone si libera dal diabete smette di prendere farmaci quindi gli stili di vita sono importantissimi e quello che vediamo invece è che in questi bambini in questo studio Occhio alla Salute questi bambini vengono nutriti con merendine bevande zuccherate, caramelle, biscotti hanno delle colazioni assolutamente insane mangiano un sacco di cibi raffinati e processati non consumano invece legumi, verdure, frutta cerelai integrali a sufficienza pesce mangiano un sacco di proteine animale di latti e latticini che sono ricchi di branch e amino acids che comunque sono importanti nel sviluppare il diabete non solo, sono anche assolutamente sedentari sempre più bambini passano ore e ore di fronte alla televisione alla Playstation a giocare invece di giocare nel cortile a mantenersi attivi e quindi ridurre il rischio di sviluppare obesità addominale insomma il quadro è preoccupante ed è preoccupante soprattutto perché i genitori non sono consapevoli che i loro bambini vedete che in questo studio il 40,3% dei bambini in sovrappeso obesi è percepito dalla madre come sotto normo peso e il 59% delle madri di bambini fisicamente poco attivi ritiene che il proprio figlio svolga attività fisica adeguata e tra le madri di bambini in sovrappeso obesi il 70% pensa che la quantità di cibo assoluta dal proprio figlio non sia eccessiva al malgrado il bambino sia chiaramente in sovrappeso obeso e quindi è chiaro che c'è una necessità assoluta e questo è veramente un grido di allarme rivolto ai nostri politici, ai nostri ministri sia dell'educazione che della sanità perché è assolutamente necessario modificare questo modello di educazione nelle scuole elementari, medie, superiori bisogna insegnare ai bambini deve esserci una materia dedicata su come gli stili di vita vanno a impattare la salute non dire ai bambini fate attività fisica o mangiate meglio bisogna spiegare i meccanismi, li sappiamo i meccanismi spiegare nel dettaglio cosa succede quando si fa attività fisica quali sono gli ormoni, i vari meccanismi che vanno a ridurre il rischio di diabete di altre malattie spiegare quando mangiamo il cibo cosa succede quando aumenta la circonferenza vita quali ormoni si producono e perché e cosa succede ci deve essere una materia che viene insegnata perché questo è fondamentale per modificare insieme a tanti altri aspetti per esempio io proporrei che le persone che si mantengono sane, magre che mangiano bene per un'attività fisica dovrebbero pagare meno tasse per esempio ci dovrebbe essere una riduzione delle tasse per queste persone perché è un fattore che agevola non deve essere punitivo ma appunto deve essere propositivo cioè tu ti comporti bene, mi lo dimostri facciamo delle misurazioni di vari fattori mi dimostri che hai perso peso che si abbassa la glicemia, che si abbassa il colesterolo che si abbassa la pressione, ti ricerzi come sappiamo avviene quando le persone fanno dei corretti stili di vita e paghi meno tasse tante altre cose che si possono fare a livello politico, sociale, educativo ma assolutamente questo modello di aspettare che le persone a 40 anni, dopo 13, 14, 15 anni di obesità iniziale, diabete, prediabete, diabete si rivolgano al medico con dei sintomi di nefropatia retinopatia, neuropatia, malattie cardiovascolari è assolutamente pazzesco, assolutamente insostenibile sia socialmente che eticamente che finanziariamente quindi vi prego di condividere questo video perché i dati sono allarmanti e ci aspetterà uno tsunami di insostenibilità dei sistemi sanitari nazionali di tutti i paesi sviluppati in cui c'è questa epidemia di invecchiamento associata a anni, 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 anni di scorti stili di vita che aumentano il rischio della stragrande maggioranza delle patologie che vediamo nei nostri ospedali e con questo vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione Grazie 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 a tutti.